Il primo report di Byte Mobility, società partner del Comune di Pescara per il noleggio di monopattini e bici elettriche in città, parla chiaro. I numeri che riguardano la mobilità leggera nel capoluogo adriatico sono in crescita. Dallo scorso giugno, infatti, sono stati percorsi oltre 300.000 km, corrispondenti a 6 volte il giro del mondo e a 2 terzi della distanza tra la Terra e la Luna. I dati sono stati illustrati nel dettaglio dall'assessore alla mobilità del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia. Grazie soprattutto ai pescaresi e anche ai non pescaresi perché c'è una quota di turisti, di persone che vengono a Pescara e che hanno la possibilità di utilizzare strumenti di mobilità dolce e di mobilità sostenibile come le biciclette elettriche che abbiamo introdotto dalla fine di giugno e a cui si aggiunge un mezzo che ormai è diventato una tradizione per Pescara che è appunto il monopattino elettrico. Sono dati, come dicevo, sorprendenti perché soltanto dalla fine di giugno fino alla fine di agosto tutti gli utenti hanno percorso quasi 250.000 km, un dato reale e accertato, attraverso questi strumenti di spostamento all'interno della città. Ricordiamo anche il collegamento sempre attraverso la stessa azienda anche con le vicine Montesilvano e Francavilla e questo va in una direzione di area metropolitana, va in una direzione di nuova Pescara e comunque di un'area vasta su cui c'è una nuova cultura che abbiamo introdotto tre anni fa e che oggi sta dando dei frutti davvero incredibili, una nuova cultura dello spostamento alternativo all'automobile. Il risparmio in termini di CO2, secondo uno studio effettuato dalla stessa Bike Mobility, è stato quantificato in 64 tonnellate, l'equivalente di 2.586 alberi. Oltre 1.700 sono stati gli abbonamenti acquistati per il noleggio di bici e monopattini. I risultati positivi ottenuti aprono pertanto alla possibilità di ampliare l'offerta del servizio già dalla prossima primavera, come annunciato anche da Michele Francione, dirigente operativo e sviluppo della Bike Mobility presente in conferenza stampa. L'assessore Mascia, intanto, annuncia che è già in cantiere anche la realizzazione di altri 11 chilometri di pista ciclabile che consentiranno al Comune di avvicinarsi alla soglia dei 50 chilometri di ciclovie in città. Inoltre, presto saranno realizzate una cinquantina di stazioni per i bike e monopattini che attraverso un meccanismo di premialità disincentiveranno la sosta selvaggia degli stessi.